Entro il 16 marzo si avrà una risposta definitiva, ma si deciderà sulla base delle proposte dei comitati regionali. Il campionato di eccellenza è pronto a tornare in campo e la conferma è arrivata dal Consiglio della Lega di Lettanti, andato in scena mercoledì pomeriggio, alla presenza dei vertici federali e in contatto con i presidenti dei diversi comitati. Nel Consiglio federale del 5 maggio la Federcalcio ha dato ampio potere decisionale alla LND per quel che riguarda protocollo sanitario, format e date di ripresa dalla massima categoria regionale italiana. La federazione dilettantistica nell'incontro di ieri ha sancito invece l'autonomia di ogni regione. Ogni comitato infatti ha presentato la sua proposta per la ripartenza dei rispettivi campionati, con la Lega di Lettanti che ha preso in carico le documentazioni e le ha trasmesse a Federcalcio e Coni. La FIGC dovrà approvare a strettissimo giro le direttive messe dal Consiglio direttivo di ieri, mentre il Comitato Olimpico nel Consiglio nazionale del 16 marzo ratificherà definitivamente il documento per il preminente interesse nazionale, con tutti i criteri ufficialmente adottati e recepiti. La LND, in ogni caso, ha fissato dei punti non negoziabili, blocco delle retrocessioni per questa stagione, adesione alla ripartenza su base volontaria e successiva esclusione dalle graduatorie di riprescaggio per i prossimi due anni, per i club che non prenderanno parte a questa stagione, divieto di allenamenti per le squadre che non riprenderanno le attività ufficiali, allenamenti collettivi consentiti dopo la ratifica del Coni del 16 marzo. Confermato poi lo stop per tutte le categorie della promozione in giù e per i campionati juniors di Serie D. In giornata, invece, è arrivata la nota ufficiale del Comitato regionale Puglia. Il presidente Vito Tisci ha aggiornato le 27 squadre di eccellenza su quanto emerso dal Consiglio di Lega di Lettanti, chiedendo ai club di comunicare l'adesione alla ripresa delle attività entro il 15 marzo alle ore 19. In caso di partecipazioni congrue si riprenderà la stagione da dove si è interrotta. Se il numero dovesse essere ridotto, invece, seppur senza comunicare una soglia di sbagamento ufficiale, si procederà con un nuovo format, aspettando ovviamente la ratifica del Coni del 16 marzo.